Ancora anomalie sul clima. Dicembre del 2023 in Regione è stato più caldo di 2.4 gradi rispetto alla media di riferimento climatologico 1991-2020 e più secco con precipitazioni più scarse. Lo sottolinea una rilevazione compiuta dal CETEMS, il centro di eccellenza in tele rilevamento e modellistica previsionale di eventi severi dell'Atene Aquilano, che tra l'altro è uno dei pochi Atenei in Italia, a rilasciare una laura magistrale in questo argomento, un titolo di studio certificato e riconosciuto a livello europeo. È il secondo anno consecutivo che a dicembre vengono registrate temperature più alte della media e scarse precipitazioni, ha sottolineato il centro diretto dalla professoressa Rossella Ferretti. Anche dicembre del 2022 aveva fatto registrare temperature più alte di 3.5 gradi rispetto alla stessa media di riferimento, il dicembre più caldo della storia recente in Abruzzo. Ottobre 2023 invece era stato più caldo di 4.3 gradi rispetto alla media, il più caldo occorso nella serie storica degli ultimi decenni. Dai report viene fuori che c'è un innalzamento delle temperature medie e dell'inverno, insomma, ci sono stati finora solo brevi assaggi. Ci saranno ancora, conseguente del cambiamento climatico in linea con i dati osservati a livello globale. La cosa che sorprende, evidenziato però la professoressa Ferretti, è che a fronte di questa evidenza, rappresentanti delle nazioni ancora non decidono misure serie da adottare. Sono stati rimandati infatti al 2050 dei provvedimenti essenziali per mantenere la temperatura all'interno di un incremento accettabile, al fine di non avere effetti disastrosi sul clima del pianeta. Ma evidentemente per chi si occupa di ricerca e di studi sul clima, come il CETEMS, si tratta di una data troppo a lungo, quando invece ci si dovrebbe preoccupare di più nell'immediato. L'analisi, come era stata quella in ottobre della quale il Tg8 si era già occupata, è molto dettagliata ed è frutto di certosine comparazioni con gli anni precedenti. Grazie.